Grazie 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 Emozionatissima Allora è sempre bello Averti in veste di cantante E poi soprattutto È curiosa questa scelta Di un brano Legato alla tradizione napoletana Come mai Ramona? Allora Per essere sincera Nel disco che ho prodotto Che si chiama Jumi Jumà Che vuol dire metà E metà in rumeno Ho dedicato sei pezzi Alla mia patria Che mi ha partorito La Romania E sei pezzi Alla mia patria di adozione L'Italia E ho trovato giusto Di mettere i brani napoletani Perché sono quelli Che esprimono di più L'ottimismo La voglia di andare avanti La forza La cultura Di questo popolo Soprattutto Spesso con i pregiudizi Perché Ecco Vorrei Vorrei lanciare Una lancia A favore di Veramente Vogliamo si bene Cerchiamo di sorridere di più Cercare di Trovare dentro noi Le cose belle della vita Le cose positive Un sorriso E non i pregiudizi E non le cose negative Senti Ramona Oggi è stata una giornata Importante Per tutti i fedeli Che ricordo hai Tu hai un ricordo Di Giovanni Paolo II Ma per noi Era presentato Un liberatore Liberatore delle anime Perché Io mi ricordo Una cosa molto forte La mia nonna Siccome in Romania Durante la dittatura Non si poteva andare in chiesa Ma la gente Nascosto andava Pregava Perché era una gente Che sperava E credeva in Dio Ma purtroppo Per cause Della dittatura Non si poteva andare a Natale Non potevamo fare L'albero di Natale in casa Ancora succede In tanti paesi del mondo Fra l'altro Perciò Papa Voitila Ha avuto il coraggio Di liberarci Non soltanto Di un muro Non soltanto Di queste frontiere Ma di liberarci E di gridare Di avere la libertà Di credere in Dio Di diffondere La bontà La parola Di crederci In ogni parte del mondo Un grande Una grande personalità Un grande Io lo chiamo Un grande santo Perché il passo Sarà molto breve Senti ma un saluto A tutti i rumeni Che sono qui in Italia Che sono venuti Anche per questa occasione Ma sicuramente Siamo ancora in periodo In periodo di Pasqua Cristo Sanviat Cristo Sanviat E visto che E visto che Io mi fido eh No Vuol dire Gesù Il risorto E visto un breve saluto Giù mi giù ma Per par condizion Si Ma rioara Di la gorja Ma rioara Di la gorja Ia la nei Ca vreo Doi sloți Si nu te iubi Cu toți mai Ia la nei Ca vreo Doi sloți Si nu te iubi Cu toți mai Eh Cosa hai detto No per sapere No per avere una Un'idea Vuol dire Mariuara Che vuol dire Maria Non altro Mariuara della gorja Una regione della Romania Ia la neica Prende dal tuo uomo Due slozzi Due monete E non Non amarti Con tutte le persone A me vabbè Quindi insomma Ecco Una dicempa C'hai ne una Ho capito Grazie a te Grazie a te Grazie a te Grazie di cuore A te grazie Grazie Buona serata E allora